Allora, sempre con Maurizio Chiovato siamo a Isla dei Coco, siamo arrivati in una vegetazione straordinaria, un habitat incontaminato perché anche dove è stato, tra virgolette, contaminato, lei diceva per il film Jurassic Park, è stato poi ricomposto, è stato tolto tutto in modo che non ci fosse stato nessun tipo di impatto ambientale. Voi siete andati lì però con la possibilità di sbarcare e girarlo oppure soltanto per fare la crocella e quindi immergervi sott'acqua? Allora, si chiede il permesso ai ranger per andare a terra, ma è limitatissimo perché hanno solo il punto dove abitano loro e si può scendere e abbiamo insistito, insistito a lungo per poter andare all'interno e andare dove hanno proprio girato Jurassic Park, dove c'è stato l'arrivo dell'elicottero, dove c'era la cascata. Perché non si può, non ci sono strutture, non c'è niente. Non c'è nessun albergo, non c'è niente. E non abitano neanche. Non abitano neanche, non c'è niente. Cioè i ranger sono lì, che sono lì per proteggere proprio l'ambiente e ci stanno molto attenti, però purtroppo anche lì è stato veramente preda di tanti braconieri, purtroppo sì. Quello è stato un danno veramente spaventoso. Perché poi ricordiamoci che è protetta dall'UNESCO, però il discorso delle pinne e degli squali, soprattutto per il mercato orientale, è una cosa economicamente talmente alta che porta sia questi braconieri a fare questi assalti, a buttare giù gli ami, a buttare giù le reti, a fare il tocca e fuggi praticamente per catturare gli squali. Abbiamo intravisto quando nel viaggio di ritorno un peschereccio e l'abbiamo segnalato. Questo qui se ne era accorto senz'altro che l'avremmo segnalato e è scappato via. A te credo, infatti. Però sono pochi, voglio dire. Sono più gli atti che riescono ad andare in porto, gli atti di braconaggio, dei colpi che vengono infieriti ai braconieri. Mamma mia. Torniamo con le nostre immagini, che così possiamo reimmergersi di nuovo in questa realtà rilassante e naturalistica. Che dimensioni ha circa quest'isola? Quindi è 4 chilometri per 2 chilometri. È molto piccola. È piccola come isola, completamente nel verde. Quando piove si generano circa 200 o 300 cascate naturali. Qui vediamo com'è proprio lussureggiante tutte le cascate che ci sono e che vengono fuori. Noi eravamo ancorati all'interno di una baia che così eravamo protetti e potevamo stare a dormire senza nessun problema. Il viaggio d'andata purtroppo abbiamo trovato un po' di mare e anziché metterci al solito 36 ore ce ne abbiamo messo 40. Qui adesso stiamo andando a terra. Perché qui c'è da dire una cosa, che quest'isola che è in mezzo al Pacifico sembra, ma però sembra fondato il discorso, sia proprio l'isola del tesoro. Che sono stati nascosti veramente dei grandi tesori, però non si è ancora trovato nulla. Ci sono le scritte a testimoniare che è un'isola del tesoro, perché molti vascelli hanno naufragato e si sono, qui c'è l'ambiente patrimonio mondiale dell'UNESCO, si sono rifugiati i pirati su queste isole per sopravvivere. E qui vediamo le scritte del 1800, inizio del 1800, anche prima, delle persone che sono rimaste su quest'isola, o abbandonate anche, o naufragate, oppure quelli che hanno nascosto i tesori e hanno messo dei punti di riferimento, però la mappa del tesoro non è ancora stata trovata, ma parlano che ci sono veramente degli ingenti tesori nascosti su quest'isola. Quindi il livello con una certa attendibilità, però ovviamente essendo tutelata protetta. Sì, non si può neanche andare lì e distruggerla, questo è pacifico. Però con le evoluzioni tecniche che ci sono, senz'altro si troverà qualcosa, qualche strumento per poter trovarli, di sicuro. Ma devono essersi dei grandissimi tesori nascosti qua, che poi hanno una natura che consente veramente di nasconderli proprio bene. Qui vediamo queste spaccature, qui poi vediamo anche che sta piovendo, perché purtroppo la pioggia fa parte della giornata normale. Ah, durante la giornata, a prescindere dalla... A prescindere, c'è sempre lo scroscio di pioggia, proprio arriva sempre. Però andiamo lì per andare in acqua, diciamo che quando siamo in acqua siamo già bagnati lo stesso. Questa è una sula, che lì è appoggiata, tranquilla, uccelli acquatici, ce ne sono tantissimi. Ecco, qui facciamo proprio questo giro per farvi vedere com'è anche quest'isola del Coco dal mare, che proprio è veramente solo per subacquee, non c'è altra possibilità. Ah, ecco, quindi sottolineiamo, un viaggio lunghissimo per arrivarci comunque. Sì, un viaggio, eh sì, perché oltre al giorno e mezzo, due giorni d'aereo, abbiamo anche due giorni di barca, due giorni andare, due giorni, quindi iniziamo ad avere otto giorni di viaggio, quattro andare, quattro tornare. Quindi di barca ce ne sono anche altre tante. Eh sì, altre tante, qui vediamo queste cascate. Perché non è, beh, giustamente, essendo un paradiso protetto, non è neanche raggiungibile. Non è proprio assolutamente, si può arrivare solo con la barca. Poi non è che siano barche veloci, sono barche che vanno a otto, dieci nodi, sono barche molto pesanti, sono barche che piuttosto devono affrontare il mare aperto, tenere botta, perché quando si prende la burrasca non si può riparare da nessuna parte, bisogna solo difendersi proprio dalla burrasca. Quello lì era lo scoglio Manuelite, che poi lo vediamo più avanti. Questa è la nostra barca, della frotta dell'Aggressor, che è la prima flotta per i viaggi subacquei nel mondo, che in tutti i paradisi proprio subacquei c'è l'Aggressor, è presente da tutte le parti. Ed è comoda, confortevole. Sì, diciamo che bisogna adattarsi, ecco, qui è il momento che stiamo partendo con i gommoni, l'acqua non è caldissima, ci vuole una muta da 5 mm, è consigliata una muta. Che temperatura avrà? È una temperatura di 24-25 gradi. Parliamo che alle Maldive è 29 gradi, ma i 5 gradi in più fanno la differenza. A volte i 2-3 gradi fanno la differenza. No, ma poi la trasmissione che c'è tra aria e acqua è diversa, cioè i 25 gradi nell'aria è caldo, i 25 gradi in acqua è freddo. Assolutamente. Qui abbiamo la discesa che si è sempre pilotata, bisogna stare molto attenti alle correnti, quello sì, abbiamo sempre una radio trasmittente stagna nel giubbino, e nel caso si fosse portati via dalla corrente bisogna riemergere immediatamente e accendere la radio, in maniera tale che si dà il segnale alla barca che ci siamo perduti e che stiamo aspettando il soccorso. Perché l'importanza è, essendo che siamo in aperto oceano, di venirci a trovare prima che cali il sole, cioè che ci sia ancora la luce per poterci vedere. Questo è importante. Qui vediamo delle aragoste. Per cui bisogna essere sempre anche guardini, perché a volte io credo uno si perda, anche senza che se ne renda conto, perché magari insegue... Beh, siamo in gruppo, per cui finché sia in gruppo va tutto bene, perché a quel punto lì dopo ci trovano. Anche perché quello che è fuori col gommone segue molto più facilmente il gruppo di bolle che vengono fuori, le vede, la bolla singola può anche sbagliarla, non vederla, e allora a quel punto lì si può perdere il suo acqua, per quello deve emergere immediatamente. Qui le emersioni le facevamo a nitrox. Molte volte persone che non sono del settore, diciamo, che non sono subacquei, dicono ma voi andate sotto a ossigeno. No, l'ossigeno in acqua è tossico. Quindi si va sotto respirando l'aria che è in superficie, viene compressa, messa nelle bombole a 200 atmosfere. Il nitrox cosa è? Altro non è che un'aggiunta di ossigeno, l'aria che noi respiriamo al 20% di ossigeno, aumentiamo la percentuale di ossigeno al 32% al posto del 20%. Ci troviamo che è l'azoto quello che ci può creare le embolie e l'ossigeno invece ci consente di rimanere più in acqua, avere meno fatica, avere meno freddo. Ah, esattamente. Per cui si fanno più immersioni, proprio tranquilli, senza problemi. E bisogna avere un computer, logicamente, adatto, tarato, sì, su quello che è, esattamente, sul nitrox. E qui facciamo tutte immersioni a nitrox, facciamo tre immersioni e anche quattro immersioni al giorno. Appunto, non ha detti i lavori, è normale questo tipo di... Sì, in America è sviluppatissimo il nitrox. Qui da noi? Molto meno. Sta iniziando a prendere piede, però se si affittano le bombole nei vari diving è sempre ad aria. Perché, ma qui da noi, ad esempio nell'Adriatico, dove la profondità, se vogliamo andare più giù dei 30 metri, bisogna andare a scavare, insomma, perché il fondo è quello, andrebbe benissimo il nitrox, veramente bene. Questo è un trigone, che vediamo, che era tanto presente. Qui vediamo la presenza di quello che è di pesci, che ce ne sono proprio tantissimi, perché quello che c'è qui è veramente incredibile come presenza proprio di fauna marina. Ma loro vanno anche a pescare, quindi si nutrono questi pesci, oppure... No, 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 assolutamente. Questa, poverete, è un'aquila che si è rotta la coda, la vediamo, però non l'ha persa. È già molto positivo quello, un'aquila di mare. Due squaletti pinna bianca, che sono qui. Ecco, lo squalo, quando si ferma, si ferma sempre in un punto di corrente, perché in quella maniera lui respira, perché lo squalo, per respirare, nuota. Quando invece è in controcorrente, qui lo vediamo proprio vicino, ha la corrente che gli entra in bocca, e allora... Qui c'è stato uno zoom, oppure proprio vicino-vicino? No, no, vicino-vicino. Questa è l'immersione bellissima, bellissima, bellissima. Qui parliamo... E' buio? Al buio, sì, sì, avevo i fari, ho dato un po' la luce, il colore, questo è un pesce palla. E adesso qui passiamo a fare l'immersione che ha dello straordinario. Siamo in mezzo, non voglio esagerare, 200 squali? No, forse sono 300. Qui siamo all'isola Manuelita, e ci sono tutti gli squali pinna bianca... Di notte, questi? Di notte, di notte. Gli squali pinna bianca a caccia. Ecco, qui in questo caso hanno visto un pesce, si precipitano tutti contro questo povero pesciolino. Ma non avevate timore che potessero... Oddio, bisogna stare attenti a non andare nel punto dove loro stanno mangiando, perché qualche morsicolo, se no ce lo andiamo veramente a prendere. Perché proprio li vediamo poi alla fine, quando vanno in frenesia alimentare, si mordono anche tra di loro. Poi, noi avendo i fari, li facilitavamo. Perché come col faro illuminavamo un pesce, questo era immediatamente identificato da tutti gli squadri, saltavano ad osso. Però il primo era quello che riusciva a mangiare, e gli altri cercavano di portargli via il pesce. Ma non vi riconoscono come appetibili e appetitore? No, direi di no, direi di no. Direi di no, erano troppo presi. Visto così temi, direi di no. Ma io, per dire, non ho paura degli squali, non lo ritengo assolutamente pericoloso lo squalo. Ci sono altri pericoli in mare. Ci sono dei pesci piccoli, tipo il pesce pietra, che è molto più pericoloso, perché si fa decompressione e si fa magari in parete, ci può trovare il pesce pietra. Se ci va sopra, quello ha un aculeo veramente velenoso. E qui possiamo vedere questi squali, ma tra un attimo vediamo la frenesia alimentare. Questa è un'immersione fantasmagorica, è incredibile. Parliamo che la massima profondità si va a 12 metri. E' un attimo pericolosa, perché purtroppo si passa dai 12 metri alla superficie, mentre bisognerebbe andare sul fondo, rimanere e poi riemergene. Mentre invece quando si passa dalla superficie al fondo, superficie al fondo, si ricomprime l'azoto che abbiamo addosso e può creare un'embolia. Accolando che non avete le camere iperbariche. No, è lì. Quello l'attimo è molto. Quello è veramente problematico. E qui vediamo sempre come vanno dentro ad assalire quei poveri pescetti che sono rimasti lì e sono tutti pronti, come si contorcono dentro. Che dimensioni hanno questi squali? Non sono grandissimi, assolutamente. Il metro e mezzo, due metri. Non arrivano ai tre metri, assolutamente. Ecco, come un'aragosta che scappa via. Si è salvata. È riuscita a venire fuori dall'attacco e va a trovare un'altra tana tranquilla. E qui vedete, siamo passati alla superficie, dal fondo siamo passati alla superficie. Per cui questo, ecco, perché purtroppo si segue il branco degli squali, lo segui, ma lo squalo non ha i problemi che abbiamo noi. E qui adesso vediamo com'è l'attacco che fanno, eccolo qua. E quando vanno in frenesia alimentare, così, questo sì, se si va lì vicini è meglio stare un attimo più lontani. Però, ecco, qui vediamo il pesce che stava scappando via e ha finito la sua corsa. In questi casi qua, qui bisogna stare attenti, stare fuori dal mucchio, vederlo da sopra. Certo. Che una tastugine ci ridà la tranquillità. Comunque le immersioni notturne per me sono incredibilmente belle, ma veramente belle. Proprio c'è questa visione, c'è un altro mare, c'è la stessa immersione fatta di giorno e fatta di notte, sono due località diverse. Cosa è che cos'è? La vita notturna ci sono tutti questi coralli che tornano a fiorire, i pesci che vengono fuori a mangiare. Qui vediamo tutto il plantone, i mini pesci che vengono davanti ai fari, attirati dalla luce. Quindi sono visibili meglio? Sì, poi quando i pesci dormono, perché anche loro dormono, si rintanano. Ecco che di notte ci si riesce ad avvicinare, fare delle fotografie bellissime, fare delle bellissime riprese, perché proprio sono proprio a portata di mano e si va vicinissimi. E qui passiamo ai martello. Gli squali martello che sono proprio la ragione principale dell'isola del corpo. Ma questo qui è giorno? È giorno, sì, sì, no, adesso siamo passati di giorno. Ah, la ragione principale sono i squali martello. I squali martello, i grandi branchi di squali martello, che però, ripeto, ne abbiamo visti, siamo stati soddisfatti di averli visti, ma non abbiamo visto la quantità che avremmo dovuto vedere, perché purtroppo è stata un'isola depredata da questi bracconieri che hanno pescato in una maniera smisurata gli squali per il commercio delle pinne. E qui li vediamo, eccoli qua. Che caratteristiche hanno questi squali, anche come tipologia del comportamento? Allora, come squalo è molto pauroso, in primo luogo. È una forma proprio antichissima, che ha questa testa dilatata con gli occhi nelle punte della testa, ma però è sempre uno squalo, ecco, ha le sue formazioni. Quindi è vorace, può attaccare. E si può trovare uno squalo martello di un 3-4 metri, qualche problema, senz'altro... A 3-4 metri, quindi ha delle dimensioni di tutto rispetto. Allora, rispettando lo squalo martello, noi rispettiamo anche la pubblicità a pochi secondi, poi siamo con voi. Grazie.